... ... ... ... L'avete visto ieri il telegiornale? No, perché? Io sì, Kevin ha avuto un incidente in motorino, no? Ah, e come sta ora? Però voglio andare a essere proprio sciami E perché darei il motorino? Appunto. Guarda che non ci vuole niente. Sì, ma poi mi hanno detto che aveva bevuto un casino, eh. Poveretto, se l'ho andata a cercare. Tutti stavano che non ci devi guidare, dai. Ma sì, abbiamo fatto anche quel progetto a scuola, non te lo ricordi? Ma non rompere, dai. Adesso ci divertiamo! Ragazzi, questo momento per mai è questo, eh. Dai un po', dai un po'. Senti qua. Oh sì, non scolatevelo, eh. Sì, ma cosa avevamo detto ieri a scuola? E che te ne frega, diversi. Dai, belli, belli, dai, che buono. Senti che 14 giorni di buona felicità, eh. Senti che ci sono ieri a scuola, 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 eh. Ma bisogna essere proprio scemi per cadere in motorino E hanno detto che prima aveva avuto un casino Poveretto, sono andato a cercare però, tutti saranno che non si deve guidare da ubriachi E niente, non ti ricordi che abbiamo fatto anche quel progetto a scuola Ma non lo so io 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 Non lo so io